Parto ufficialmente domani, venerdì 28 luglio, la ventitresima edizione della giostra cavalleresca di Sulmona con le prove ufficiali dei cavalieri che rappresenteranno i sette borghi e sestieri della città sul campo di Piazza Maggiore. Dalle 17.30 i cavalieri proveranno il percorso sul campo di giostra e per la prima volta a sfidarsi tra loro saranno quei cavalieri che non si incontreranno invece nelle gare ufficiali previste per sabato 29 luglio e domenica 30 luglio alle 18. Emozioni che si fanno intense anche da domani. Le sfide decisive per l'assegnazione del palio come sempre si disputeranno domenica 30 luglio alle 18 precedute alle 16 dallo spettacolare corteo storico previsto anche sabato di oltre 400 figuranti, trasbandieratori, chiarine, tamburini, armigeri, dame e nobili, tutti in costume rinascimentale che sfileranno dal piazzale della cattedrale di San Banfilo lungo corso video per approdare in Piazza Maggiore creando un'atmosfera di grande suggestione. C'è molta attesa per conoscere l'abito che indosserà l'attrice Maria Grazia Cucinotta nel corteo di domenica pomeriggio al quale prenderà parte nelle vesti della regina Giovanna D'Aragona. Lo stilista e costumista Alessandro Pischetta finora non ha voluto fare anticipazioni di sorta. Gli spettatori del torneo quest'anno seguiranno i momenti salienti delle sfide accompagnati da un pool di sette speaker. La regia del pool sarà affidata a Fiorenza Quadraro collocata in una postazione allestita come sempre in tribuna. Collegi sarà Veronica Pagano traduttrice per gli spettatori provenienti dall'estero. La stessa Quadraro sarà anche quest'anno cronista del corteo storico lungo corso video nella postazione del palazzo dell'Annunziata. Claudio Natale sarà accanto al massoggiurato di Giostra per riferire di volta in volta i risultati delle sfide con tempi e punteggi. Livio Pallotta e Rosario Ciacchi interverranno nell'intervallo tra le diverse gare per illustrare storie, personaggi, curiosità, aneddoti legati alla Giostra. Roberto Ruggero e l'attrice Roberta Scardola seguiranno le gare dagli spalti e interverranno nella nostra diretta televisiva che sarà trasmessa anche su Sky. Infine Michele De Blasis, già spiegare della cordesca disputata nel giugno scorso, sarà nella tribuna riservata ai disabili rendendo anche loro partecipi del torneo di Piazza Maggiore.